Protagonista del nostro speciale di oggi è il professore Lorenzo Fioramonti che ha scritto il libro Un'economia per stare bene, parlamentare del gruppo Misto. Ben ritrovato professore. Buonasera. Professore, allora, sono ore davvero di fibrillazione politica. Si va verso il conteterre, il premier andrà al colle per rassegnare queste dimissioni che abbiamo capito anche alla luce della scorsa settimana, del voto sofferto alla Camera, ma soprattutto al Senato, il premier non voleva consegnare. Allora, ci dica qual è la sua visione di quello che sta succedendo proprio in queste ore. Finalmente si è arrivati al punto della situazione. Alcuni di noi, deputati e senatori, che hanno votato la fiducia la settimana scorsa, l'avevano detto chiaramente, che quel voto di fiducia non era un assegno in bianco. Era un voto di fiducia per fare una cosa, cioè creare un nuovo governo. Un governo, soprattutto mi auguro di esperti, di esperti d'area, di figure davvero del meglio che questa maggioranza di centro-sinistra può offrire al paese in questa fase così delicata. Ci è voluto un po' di tempo per convincere il premier. Pare che prima abbia cercato di trovare voti altrove e ora finalmente abbia compreso che l'unica strada è quella di un nuovo incarico con un nuovo governo per poter rilanciare completamente l'azione di governo. Su alcune questioni sono stati fatti troppi errori. Per esempio su quali? Professore, sappiamo già, lei è stato ministro, ovviamente lo ricordiamo tutti, dell'istruzione. Quali sono gli errori più gravi che sono stati commessi in questo conte bis, secondo lei? Poi arriviamo anche al recovery. Certo, certo. C'è un errore trasversale che è quello del pessimo coordinamento sia del governo internamente, ministeri che non parlavano tra di loro, che non si parlano tra di loro. In una situazione normale già questo crea un problema a un paese. In una situazione come quella dovuta alla pandemia diventa davvero caotico. Sulla scuola è stato fatto un errore dopo l'altro. Se noi oggi soffriamo del fatto che abbiamo il maggior numero di giornate in cui la scuola è stata chiusa, siamo il paese in Europa che ha avuto la chiusura più prolungata, è anche perché non abbiamo fatto degli interventi che potevamo realizzare l'anno scorso, a partire dalle classi ridotte, insomma tante questioni che abbiamo discusso più volte, non sto qui a ripeterle. E ora su recovery fund rischiamo tantissimo, rischiamo tantissimo perché il recovery fund, se deve diventare un'opportunità di rilancio, richiede il massimo di efficacia e coordinamento. Finora purtroppo i ministeri non hanno dimostrato di essere all'altezza. Non tutti, ma sicuramente c'è un problema generale. In effetti ha visto le critiche proprio di queste ore della presidente di Confindustria che dice che questo recovery plan, il piano di ripresa e resilienza varato dal governo Conte, ricordando, lo ricordiamo noi, sicuramente sono state anche accolte molte delle richieste da parte di Italia Viva. Ebbene, dice Bonomi di Confindustria, non è in linea con le richieste dell'Unione Europea. Ci commenta queste critiche di Bonomi e se in parte le condivide. Ma io credo che il problema fondamentale non sia tanto nei contenuti quanto nelle modalità. Io condivido molto degli aspetti dell'impianto europeo del recovery fund e quindi condivido anche il modo in cui si adatta priorità, per esempio, a delle questioni centrali come la transizione ecologica dell'economia, la digitalizzazione. Il problema è tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Se noi qua, chi ha fatto progetti a livello di programmazione europea lo sa benissimo, una cosa è dire voglio fare questo, altra cosa è realizzare quel programma di lavoro con i milestones, con i passaggi necessari e le riforme necessarie per dimostrare che si riesce a farlo. Noi per decenni abbiamo investito i fondi strutturali, tantissimi fondi strutturali, molti di più nel Sud Italia. Non mi sembra che il Sud Italia sia stato rilanciato e sia diventato nel dorado dello sviluppo. Io voglio anche sottolineare una cosa. Quest'anno abbiamo fatto 160 miliardi di deficit, 160 miliardi di debito in più. Eppure non mi sembra che il Paese sia stato rilanciato, sia cambiato. Quindi attenzione, quei 209 miliardi facciamo presto a sprecarli. Non sono tantissimi soldi. Viene detto che sarà un'inondazione di capitale, ma in realtà in un Paese come l'Italia 209 miliardi, tra l'altro su sei anni, sono relativamente pochi. La bravura è nell'utilizzarli per fare in modo che l'investimento che nasce da quel capitale produca 10-15 volte di più nella sua realizzazione. Quindi bisogna fare investimenti strategici, altrimenti li sprecheremo immediatamente. L'Italia di sprechini ha visti già troppi. Anche perché non siamo stati mai particolarmente brillanti nel utilizzare i fondi europei, professore. Per concludere, lei che da tempo, anche da diversi libri fa, possiamo dire così, ha puntato l'attenzione proprio sulla green economy. Almeno saluta con entusiasmo la decisione della nuova amministrazione firmata da Joe Biden di farla tornare agli Stati Uniti all'interno degli accordi sul clima di Parigi. E cosa si aspetta anche dall'America capitanata da Joe Biden nei suoi rapporti con l'Europa? Sono assolutamente felice di questa inversione di tendenza. L'amministrazione Trump è stata una sciagura sotto molti aspetti, tantissimi direi. Ora il problema non è tanto essere contro i cambiamenti climatici, a favore della green economy e della transizione, ma esserlo per davvero. Il problema è il greenwashing, il problema è il rischio che oggi tutti si riempiano la bocca di sviluppo sostenibile, di transizione, perché fa moda, ma in realtà poi quando si vanno a realizzare i progetti, noi scopriamo che sotto questa etichetta di green economy si nascondono cose che green non sono per niente. Quindi dobbiamo fare estrema attenzione, soprattutto voi giornalisti, nello scoprire cosa si nasconde dietro i titoli. Ed è per questo che mi preoccupa il modo in cui il governo vuole realizzare il recovery fund e c'è bisogno davvero di ministri all'altezza su questioni centrali per fare in modo che non si facciano gli errori del passato. Davvero in conclusione, professore, una curiosità, ma riconciliarsi con Renzi da parte di Conte secondo lei è possibile? Perché il suo ex partito, diciamo il Movimento 5 Stelle, sembra anche piuttosto diviso tra chi sostiene che è mai più con Renzi al governo. Io credo che in politica non si debba mai dire che non si può tornare indietro. Però guardi, per me è essenziale che questo governo resti un governo di centro-sinistra, quindi piuttosto io andrei a recuperare i voti di Italia Viva anche sfilando dei deputati e senatori a Renzi che potrebbe ritrovarsi isolato con un manipolo di collaboratori ma senza il gruppo, piuttosto che andare a cercare voti nel centro-destra. Per me questa è una questione essenziale, la maggioranza deve essere di centro-sinistra, quindi meglio Italia Viva che andare verso il centro-destra, Forza Italia o altre realtà che davvero sotto molti aspetti pongono dei problemi seri anche di coerenza e rischiamo di trovarci un governo peggiore di quello che c'è stato finora. Grazie davvero al professore Lorenzo Fioramonti, vi ricordo il suo ultimo libro Un'economia per stare bene, lui è deputato del gruppo misto. Professore, grazie, a prestissimo. Grazie a voi.